Merda! Merda! Allora, aspetta che è partita, dopo taglio, ok? L'è! Bella a tutti ragazzi, noi siamo i Revolution Gamers, io sono Toffy Io sono Rust E oggi siamo nel primo video in cui cazzeggeremo un po' a caso Nella Castle Wars E l'altro Eh, boh, dico, cioè il server si chiama Evermine, lasceremo il link in descrizione Ovviamente Ok, allora, andiamo nella Castle Wars Allora, io vi dico, che cazzo sto facendo? Vi dico subito che non sono molto esperto di Minecraft Sì, potrei registrare io che magari sono un po' più esperto Il problema è che il computer mi lag è un deficiente Per chi mi segue nel vecchio finale lo sa Non credo che si siano molti Beh, Lel Eh, andiamo Aspetta, dove sei? Non lo so, vabbè, dai, entriamo nella Castle Wars Ok, io sono Eh, no, aspetta Io sono arancione Ok, ok, siamo insieme Sì, sì, siamo insieme, sono dietro di te Bene, io mi prendo l'armatura Porca troia, togliete delle palle Allora, armatura easy Prenditi l'armatura Io intanto, tipo, inizio qui dalla lana perché i nabbi di merda non capiscono che la gente può arrivare anche da dietro Ci sono un po' di diamantini molto easy Eh, no, perché in questa mappa fa veramente schifo e tipo i diamanti No, no, non chiudere Cioè, non aprite Eh, no, cioè, noi no Perché siamo in un'altra parte L'altra, l'altra mappa ce l'hanno Se ti togli dalle palle tu Cioè, non tu Sì, avevo capito Sì, ma, sì, ma saranno deficienti Comunque, spieghiamo un po' il senso Esatto Sì, allora Allora, come vedete, quello che è appena chiuso Cazzo, è vero, non sto registrando Cioè, non sto registrando io La parte, la parte iniziale In una, in una parte iniziale c'è un della lana E Porca Questa lana Cioè, allora In poche parole La Castle Wars È come negli sparatutto Tipo cattura la bandiera Cioè C'è un C'è una lana Che, appunto, sarebbe la bandiera Negli sparatutto E Da prendere Se tu ti togli il mano E Una volta presa la lana Però bisogna anche tornare indietro Per quello è molto difficile E Durano molto, di solito Infatti queste partite Di solito sono isolette volanti Quindi bisogna collegarle con dei ponti Quindi è un po' un casino Però è molto divertente Naturalmente È divisa a squadre Quindi c'è la squadra Porca Troia E poi c'è la squadra C'è la squadra Porca Troia Più o meno Noi siamo a Razzoni Per fortuna siamo Sì, vabbè Sti qua hanno tutte le armature in diamanti Neanche fossero Gesù Cristo Ma il problema è che noi siamo finiti Dalla parte della mappa Dove Dove C'è la parte sfigata Dove non ci sono né diamanti Né niente Loro hanno tipo Le I diamanti E hanno anche Come cazzo si chiamano Gli archi con knockback Che Per chi non sapesse cos'è il knockback È quella roba che quando ti sparano Ti mandano tipo Da 3 miliardi Dall'altra parte E che è molto utile Perché essendo su delle isole Cadi facilmente E tra l'altro Loro hanno tutti i diamanti Noi l'unica cosa che abbiamo È una cesta qui Con Una Una perla di Omega Cioè una Una ender perla Che tra l'altro Adesso dove cazzo è Non lo so Vabbè È qui da qualche parte E Ah eccolo L'ho trovata È una Una Diamond chestplate Con Projectile protection Quindi comunque non è male Sì però Noi ne abbiamo solo una Loro ne hanno Tipo un casino Cioè hanno tutti i diamanti Possono fare full diamante Invece Mi sono accorto che hanno fatto una merda Vabbè Ma che che Sei giusto un po' morto Come ho fatto a morire? Ah non lo so Sai io non ti vedo Vabbè Lo sto per uccidere Ah intanto Per caso faremo una serie Di Minecraft survival Al massimo Esatto Io Cioè tipo Io Minecraft Ho smesso di giocarlo Perché mi aveva rotto le palle E ho iniziato a giocarlo con le mode Con le mode è veramente tanto divertente L'unico problema è che Devi Cioè Devi saperle usare Le sai usare No 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 Questa per scoprire tutto Intanto sto sparando come un coglione Con l'arco Vabbè Eh io Stamattina La maggior parte L'ho passata così Per sparare come un coglione Porca puttana Ste scale di merda Perché c'è un Cavallo Eh Sì a casa ci sono tipo Gli spawner di cavallo Le peggio cose In sé È caduto Un cavallo Sì l'ho buttata giù Sì io gli do fuoco Perché fanno tipo Un rumore strano Uh TNT Sì la TNT è divertente Portiti Portiti Tu è il cazzo di knockback Porca troia Bene sono morto Oh mio dio sono in pieno spawn In mezzo a tutti i nemici Eh sì guarda che è lì Che dovresti andare Del resto Il problema è Avevo preso il La lana Devi anche tornare indietro Cioè è tutto Veramente un casino Sì vabbè no ma sono troppi Dai cazzo Sono tutti diamantati Eh sì perché Se vedi Se vai al centro del villaggio E vedi tipo All'estremità Le isopre All'estremità Se vedi Loro Oh non mi ha visto Non mi ha visto Ho fattuto del diamante Lello Adesso corri indietro Corri indietro Se vuoi veni in base Che ho preso un po' di diamanti Oh bravo C'è 8 Ehm Ok allora Dovrei essere già in base Ok il problema è che Tornarci adesso Cioè potrei suicidare Ok siamo a 7 minuti circa Di registrazione Boh non è un problema Eh non ho capito Comunque No dai Quanti minuti 8 Adesso Vabbè al massimo Poi faremo qualche taglio Tipo questa parte In cui diciamo Stai droiate Oh vieni qui Dove sei andato Vieni 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 Girati Girati dietro Ok Chi è il coglione Che ha messo Una craft in table Qui Aspetta che mi piace Uccidere i cavi Ok Tieni Oh Grazie Io dato che ne ho Giusti 4 Mi faccio anche I piedini Oh full diamante Io in pratica adesso Perché vado Se vuoi Vatti a prendere L'armatura Il panciale Vedi come cazzo Si chiama Lì nella ceste Guarda seguimi Eh aspetta Dove sei? Smettila Ah sei qua Ok Ok l'ho ucciso io Vieni Che figata Scusa sei qui Non ti avevo visto Ma chi è il coglione Che ha chiuso Qui Che cos'è quel mona Porca puttana Sono caduto Dai Ma ti avevo Cazzo Fatto i piedi Sono coglione Scusate Ok Io sono full diamante Ho detto Guante a rinforzartelo Tipo troia 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 sei una troia Lo diamante è una troia Comunque Io sto laggando di connessione proprio in una maniera impressionantanto Impressionanto Impressionanto Io a me a qualche volta si scatta un attimo Ma comunque Che chezzo No 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 ci sono i blu in base Ok ne ho ucciso Va abbastanza fluido Cioè l'ho mandato Tutti Eh no 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 a me non è che lagga A me Cioè lagga di connessione Quindi non è che Cioè tipo vedo la gente che si blocca E poi Sì cioè Non è che mi lagga il pc Brutto pezzo di merda Ah si prova a scappare No Ah no questo qua è in squadra mia Che cazzo Basta che ci guardi il cappello eh Eh ma Perché non c'è i bambini Cazzo è che mi colpisce allora Ah è uno con l'arco Bastardi Di figli di figli Oddio Io prima o poi in un video tiro uno di quei porchi Che sente fino Mosconi Mosconi a prova Mosconi conferma Beh io sono in full diamante Proprio mi sento prova Vado là adesso Oh so già Ti vedo sono indietro di te Oh yeah Sono morto Sono morto Ho già capito Sono morto Eh sono morto Grande Dai Mi avevo fattuto di sotto diamante Io vorrei far esplodere qualcuno in aria adesso Quindi facciamo Eh vabbè No 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 Porca troia C'è uno che sta Mandando a puttane la nostra base Uno dei quei No Sto andando proprio in mezzo a loro Sono un coglione Ecco No No Sì E' genius E' genius Altro che collo Questo è un vero sparaturo Comunque nei commenti ragazzi diteci cosa volete che facciamo Se volete non so Se volete porno No boh quello no Mi ho piantato una freccia in testa Io ho stato un po' di farti male ma Peccano Io sono un No ti giuro C'è tipo Nell'isparatutto non un cazzo di mira Vado a giocare a battlefield e muoio subito Poi tipo in minecraft ho le skill Eh sì Basta Ma chi è che ha dato fuoco qua? Eh le teste di cazzo dell'altra squadra Poveri sto anzi Eh va bene ho preso fuoco Sto leggerissimamente morendo Cioè stamattina ti giuro che avevo le skill Killavo tutti in due secondi Skill? Mangia una mela d'oro se stai morendo No boh Ti do un po' di vita Eh voglio ammazzare qualcuno porca puttana Adesso non so se hai l'audio Ah no aspetta sì avevamo fatto le prove prima Comunque Eh cazzo E quando becchi qualcuno con l'arco Senti tipo un rumore Tipo Pnino Colasce Quello è stupido Dai ha preso fuoco e si è buttato giù Ma quella ha 300 frecce Se non avesse il cazzo No 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 Basta vado a ucciderti con le bistecche io Con una bistecche non ho paura di usarla Esattamente Basta Ma dove cazzo vuoi andarti Tuano E lo prende Poi divertente perché C'è gente che pensa di essere pro Poi fa i ponti E muore subito perché non è capace Tipo di guardarsi attorno Sto dicendo cose a caso Guarda quel pezzo di merda che si fa la barriera Va beh in realtà è lo scopo del gioco in pratica Io non riesco a capire Non riesco a capire come faccio a morire E allora aspetta che torno Aspetta in caso potremmo terminarla qui Un video che siamo a 15 minuti Va bene Bene Quindi ragazzi il primo episodio finisce qua Se vi è piaciuto mettete un mi piace Lasciate un commento e iscrivetevi Iscrivetevi anche ai canali di Rasto e Toffi Si Che trovate in descrizione E niente Ci vediamo al prossimo episodio Bella